Chi sa che il generale dell'elettro, le compagnie che stanno a buttire? Ingegneri, roba d'ingegneri, no? No, Adriano. Il generale dell'elettro ti chiede? Mi chiedevo a scappare. La fattoria, se la fattoria. Quattro anni, avevamo un anno. La FIA. No, tu vedi la FIA. E... Da tantino anni fa, c'era il 47, che ha detto che ha quasi 50 mila persone lavorate. Eh, non lo so. Ma ci stanno 5-7 anni. 5-7 anni. Non lo so. 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 Non lo so.